Sul piano dei diritti abbiamo condotto in porto traguardi che da tempo avremmo voluto raggiungere, come le unioni civili, il fine vita. Permettetemi di associare a queste la legge sui minori stranieri non accompagnati. Sul versante sociale lasciamo al Paese un grande numero di misure e di investimenti, ma soprattutto una storica misura, storica, come il reddito di inclusioni. E allora vorrei dirvi, ma cosa c'è più di sinistra? Quale altro Paese europeo ha una legge che tutela i minori stranieri non accompagnati? Guardate che tutta l'Europa sta guardando a quella legge come una legge esemplare. Guardate che ai confini dell'Italia vengono respinti dalla civilissima Francia ai minori e vengono rimandati indietro, vengono respinti dall'Inghilterra, ai confini tra la Francia e l'Inghilterra, violando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Che cosa c'è più di sinistra? Che un reddito di inclusione per le famiglie lasciate nella povertà più grande dal governo di destra che ci ha preceduti.